Acqua sì, ma plastic free. È la manifestazione che si svolgerà presso gli istituti scolastici di Centola e Palinuro il 13 aprile 2019 a partire dalle ore 9.30. L'incontro è stato organizzato dal Comune di Centola, CONSAC Gestioni Idriche, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Legambiente Campania, Ministero dell'Ambiente e Regione Campania. L'iniziativa è finalizzata all'educazione e sensibilizzazione degli studenti a non usare più la plastica. Durante l'evento saranno distribuite a tutti gli alunni borracce di alluminio riutilizzabili.